domenica prossima visiteremo il parco sempione e sarà l'ultima tappa di un percorso iniziato con la milano romana proseguito con quella medievale quella rinascimentale che ci ha visto conoscere gli episodi del barocco il capitolo monumentale del neoclassico fine quartieri dell'ottocento e gli episodi più vicini a noi del novecento della contemporaneità il parco sempione non è soltanto un meraviglioso giardino all'inglese di stampo romantico ma è una grande stanza a cielo aperto nella quale convivono architetture ed episodi artistici di estremo interesse e di grande importanza e rilevanza ci troveremo alle ore 10 in prossimità del dell'ingresso del castello sforzesco che guarda il parco stesso quindi piazza del cannone e faremo una passeggiata della durata di circa due ore durante la quale conosceremo appunto architetture di 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 grande di grande rilievo storico e di grande interesse ovviamente l'arena civica l'arco della pace il monumentale palazzo dell'arte ma anche episodi non secondari come la torre branca oppure il teatro il teatro continuo di burri fino all'accumulazione musicale di armano il ponte delle sirenette che è un episodio interessante in quanto residuo della della copertura dei dei navigli no e quindi conservato proprio in originale al parco al parco sempione sarà una passeggiata divertente nella quale appunto tenteremo questo questo riassunto sicuramente difficile e sicuramente sintetico tuttavia di grande di grande interesse sia per chi già conosce qualcosa della storia della nostra città sia soprattutto per quelli che invece non la conoscono vi aspettiamo appunto alle ore 10 vi ricordo che non ci sono costi la partecipazione appunto è gratuita tuttavia è importante annotarsi scriversi attraverso email oppure telefonando alla nostra sede entro venerdì vi aspettiamo e ci auguriamo di fare una bellissima passeggiata tutti insieme arrivederci ciao